Allora mancano cinque giorni al voto, oramai tutti i candidati sono proiettati verso la campagna elettorale per raccogliere maggiori consensi possibili sul territorio a livello personale e io penso che bisogna a questo punto parlare di alcuni argomenti. Voglio sottolineare che io sono il candidato a sindaco della lista Caprese Uniti, sono il garante di questa lista, sono la persona che in realtà riesce in questo momento a realizzare una grande sintesi sul territorio rispetto ai problemi che abbiamo avanti. D'altronde voglio sottolineare che anche l'altra lista mi aveva chiesto di candidarmi con loro proprio per queste qualità che dimostro di essere una persona moderata, di essere una persona equilibrata, di essere una persona concreta che pensa esclusivamente agli interessi dei cittadini, senza rancori, senza nessuna idea di odio nei confronti di nessuno. Ma negli ultimi tempi è successo anche qualche cosa che dico l'idea mi ha dato un po' fastidio. Io sono un po' offeso nei confronti di quello che è stato detto per gli abitanti di Marina Grande, che in realtà sono stati additati come se loro fossero delle persone che si vendono per un caffè. Questa ingerenza da parte del Comune di Anacarri, la nostra campagna elettorale, secondo me è un gravissimo errore. Noi siamo due comunità di una stessa isola, due comunità un po' diverse, ma che siamo nello stesso scoglio che dobbiamo tutelarci. Quindi dobbiamo stare insieme. Fare questo tipo di battute, istigare le relazioni delle persone, a mio giudizio, è un gravissimo errore. Io penso che noi dobbiamo cercare invece di dare serenità anche nei rapporti, dobbiamo cercare di affrontare insieme problemi anche seri e importanti, anche scontrandoci con le proprie idee diverse, ma alla fine dobbiamo raggiungere una sintesi. Io questa idea di raggiungere una sintesi l'ho sempre avuta. Quindi io vorrei rassicurare il futuro sindaco di Anacarri, che il dottore Scoppa, che da parte mia, nella qualità di candidato sindaco, mi auguro di futuro sindaco, è capo della lista da Presi Uniti, ma capo del Paese nella sua completezza, io ritengo che sia necessario cercare di avere buoni rapporti. e dobbiamo parlare senza fare istigazioni, senza andare fuori termini, senza usare parole che poi le parole diventano pietre e noi dobbiamo evitare che le parole pesano troppo. Le parole devono avere il ruolo che devono avere, devono avere parole per convincere e non per scagliare pietre nei confronti degli altri. Vorrei però interessarmi di quello che mi interessa più a me, cioè di parlare di problemi reali del Paese. I problemi reali del Paese, per quelli che mi riguarda a me, sono quelli di Capri in questo momento, sono quelli che ho avverto tutti i giorni delle persone, sono quelli che riguardano le varie problematiche e noi abbiamo le idee chiare come portarle avanti. Vorrei dire che noi abbiamo presentato un piano di riduzione delle tasse, perché qua c'è tanta gente che alla fine del mese non riesce a pagare la tasse dell'entezza urbana perché ci sono pensionati che non arrivano a fine mese. Dobbiamo pensare a quello che è un gravissimo problema abitativo, dire che le coppie che non si riescono a sposare, di giovani che non hanno futuro in questo paese che vanno sorrenti a vivere e noi questo non ce lo possiamo permettere, o anche a vivere ad Anacapri, perché in questo ragionamento la nostra comunità si sta depaporando, noi abbiamo una comunità che si sta impoverendo da questo punto di vista e dobbiamo pensare alle tante problematiche che ci sono in una prospettiva strategica per il futuro. Quindi la mia visione è quella di avere un comando del Paese serio, di dimostrare che noi possiamo amministrare senza gridare, perché il tempo delle polemiche è finito, la gente ha trovato fatti concreti, volto trovando serenità, volto trovando la possibilità di parlare con un sindaco che non ha paura di parlare e io ribadisco il concetto, io vorrò essere il sindaco che non penserà mai di fare rappresaglie contro le persone, contro i cittadini perché noi dobbiamo invece essere il sindaco, voglio essere un sindaco di una comunità ricostituita, di una comunità di capresi, perché la nostra comunità in questo momento non esiste più, ci sono tante cose che ci distraggono, noi dobbiamo tornare ad essere orgogliosi di essere capresi e orgogliosi di essere cittadini di questa bellezza e isola che tutti quanti ci invidiano, che è la nostra bella Capri. Quindi Capri, due comunità diverse, ma siamo sulla stessa isola, quindi io sono orgoglioso di essere capresi e vorrei che tutti quanti fossero orgogliosi allo stesso modo di esserlo. Grazie a tutti.